Chiuse le primarie per la scelta dei candidati del Movimento 5 Stelle alle prossime elezioni europee dell'8 e 9 giugno. Il comasco Fabio Aleotti sarà in corsa nella lista grillina. L'esponente Lariano è già stato candidato sindaco a Como e consigliere comunale nella passata amministrazione a Palazzo Cernezzi. Aleotti è stato scelto attraverso le primarie, strumento abitualmente utilizzato dal Movimento per individuare i candidati. «Ringrazio tutti gli attivisti che mi hanno votato. È una forte emozione quella che sto vivendo, conscio delle responsabilità, fidatemi», ha detto Fabio Aleotti. L'Europa è e deve essere protagonista e al centro di un processo di pace che coinvolga tutti i paesi. Un grindile europeo per raggiungere la neutralità climatica, mobilità sostenibile, diritti sociali, inclusione, sostegno alle famiglie. Questi sono alcuni dei fondamentali temi da affrontare. «Il lavoro è tanto, ma questo è solo uno stimolo per affrontare con impegno le sfide che decideranno il futuro del pianeta e delle prossime generazioni», ha aggiunto Aleotti. Il coordinatore provinciale del Movimento 5 Stelle di Como, Raffaele Erba, ricorda le linee guida dell'attività del gruppo. «Pace, ambiente ed equità sociale sono i pilastri su cui si fonda l'azione del Movimento 5 Stelle in Europa e a tutti i livelli istituzionali», sottolinea «non è la corsa agli armamenti la strada futura per l'Unione Europea». Sandro Pertini diceva «svuotiamo gli arsenali e riempiamo i granai», un motto da seguire per costruire un'Europa dei popoli e realmente solidale.